Radio Radicale, siamo con il senatore Lamberto Dini, che come sapete è stato Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, per parlare con lui dell'attesa su un possibile ribasso dei tassi di interesse. Allora, noi abbiamo visto che la Banca Centrale Europea ha avuto un approccio molto prudente negli ultimi mesi, lasciandoli invariati. Allora, lei si aspetta il grande passo e che significato avrebbe questa possibile mossa dell'Istituto di Francoforte? Guardi, lo stesso governatore della Banca d'Italia ha indicato che si va verso una riduzione dei tassi, perché le tensioni inflazionistiche nella nostra economia sono cessate. Tutto era scoppiato con l'aumento dei costi dell'energia, a seguito dell'invasione della Russia nell'Ucraina, e con le sanzioni e tutte le cose che sono successe. Oggi non ci sono tensioni inflazionistiche. Anche questo aumento di occupazione non è che porta a un tale aumento di domanda. E quindi io credo che si possa tranquillamente ridurre perlomeno dello 0,25 ora e poi vediamo come vanno le cose. L'effetto, quello riduce il costo dei mutui e del credito bancario. E anche del debito. Certo, tutto quello che è a tasso fisso, quello che è a tasso variabile, sì. Certamente i crediti bancari in generale, le imprese, capitale circolante, lavorano a tassi variabili. Senta, lei si aspetta anche un aggiustamento sulle proiezioni della crescita del nostro Paese e dell'Eurozona dopo questa decisione? Oppure le stime resteranno intorno a sotto l'1%? Io non vedo prospettive di andare al di sopra dell'1%. Grazie al PNR, quei 100 miliardi che sono già arrivati, come una forte iniezione, in progetti e in riforme, che hanno contribuito a non avere zero come crescita economica. Del resto, la crescita dell'economia italiana è stata bassa negli ultimi vent'anni. E questo è dovuto a due fattori, secondo me. La struttura dell'economia stessa, basata sulla piccola e media impresa, che sono effettivamente il motore dell'economia italiana. E i nostri imprenditori sono molto bravi nel cambiare il prodotto, modificarlo, eccetera, eccetera. Però non ci si può aspettare, dalle piccole e medie imprese, grandi salti di produttività. Perché non siamo nel settore tecnologico, siamo praticamente fuori. E quindi è quello il settore dove il valore è aggiunto e la produttività è maggiore. Non è affatto bene a dire qualche mese fa che bisogna fare dei grandi investimenti proprio sull'intelligenza. Dunque, il fatto è che purtroppo abbiamo questo debito pubblico molto alto che non ci permette di finanziare, come sta facendo gli Stati Uniti, e ora un pochino l'Europa credo che lo voglia fare, finanziare nuovi investimenti e facilitare gli investimenti nell'alta tecnologia. E noi abbiamo questo nodo al collo del debito pubblico che non ci dà molto spazio. Se l'Europa facesse un passo avanti e finanziasse attraverso l'emissione di debito comune investimenti di tipo europeo, insomma, in certi settori, facilitarli, seguendo un po' l'esempio degli Stati Uniti che effettivamente stanno abbandonando il libero mercato per protezione dell'industria americana che dall'altro, the green economy e tutto, il governo americano sta iniettando centinaia di miliardi nell'economia e noi questi non li abbiamo. Se l'Europa potesse, attraverso il debito comune, credo che questo aiuterebbe. Certo, le dico, questo è necessario perché non ci possiamo aspettare dalla nostra struttura economica aumenti di produttività. Non li vedo. Crede che la guerra sia anche un freno alla crescita economica? Allora, oggi noi, con la ripresa dell'abbassamento dei tassi di interessi e l'abbassamento dell'inflazione, potremmo commettere l'errore di dire in fondo la guerra non influisce sulla crescita economica? Guardi, la guerra influisce in tutti i modi sulla crescita dell'economia perché è vero che abbiamo dato un po' di armi all'Ucraina non so di quale tipo perché ancora il governo non ha spiegato ai cittadini cosa hanno mandato in Ucraina anche se ora dico nel governo ma noi non vogliamo che le nostre armi a norma della Costituzione siano impiegate in azioni offensive non è che lo sforzo bellico, per così dire perché queste armi o queste munizioni devono essere sostituite e quindi ci saranno le imprese che dovranno risolvere però questo non sarà tale da creare un grande aumento di domanda e quindi di nuovo le dico che la guerra è responsabile dell'ondata inflazionistica che abbiamo avuto e quindi non so quanto sia stato utile o saggio effettivamente mettere tutte queste sanzioni sulla Russia avevano bisogno del gas e del petrolio russo non tanto quanto la Germania ma quasi guardi l'effetto del costo dell'energia in particolare della Germania che ha avuto sulla crescita economica che è un forte abbassamento della crescita e del resto la Germania che non tira e anche l'economia italiana le nostre imprese in cui c'è un indotto in cui ci sono esportazioni la Germania è il nostro principale mercato di esportazione e quindi anche quello non ci aiuta in questo momento avremmo bisogno anche di una forte ripresa dell'economia tedesca e al momento non mi pare che ci siano le condizioni del resto trovo che sia molto preoccupante questa ondata di aumento diciamo anche da parte delle giovani generazioni che guardano a destra ai partiti conservatori insomma non soltanto in Germania ma altrove anche questo è preoccupante molto preoccupante perché dobbiamo assolutamente proteggere non solo proteggere l'Unione Europea ma svilupparla e completarla in quei settori dove ancora è carente e quindi il governatore ha indicato il completamento dell'Unione Bancaria in particolare completamento di una politica fiscale comune bene io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato l'impatto della possibile scelta della Banca Centrale Europea ringrazio il senatore Lamberto Dini grazie buongiorno